Non cambierei per niente al mondo nessuna delle mie assistenti, nessuna delle mie segretarie e nessuna delle ragazze che lavora in amministrazione. Mi è stato chiesto cosa vorresti per essere felice sul tuo posto di lavoro, niente più di quello che ho, assolutamente. Guarda in camera, guarda in camera. Mi stanno anche registrando. Ho già caldo. Michela, devo... Michela, c'è il tuo nome, non voglio. No, ma se voi mi fate così, mi vedete anche anche quello che voglio. Michela, devo dire... No, guarda in camera. Michela, devo... Guarda sempre là, parla con me, ma guarda là. Michela, devo dire che molto del corso che facciamo in questi tre giorni dipende da te e dalla tua organizzazione. Vorrei sapere che cosa ne pensi e come sta andando il corso. Guarda in camera. È un po' caldo in questo momento, sta andando bene, come sempre. Cinque anni. No, non è una... Fai da casa. Questo corso sta andando molto bene, come tutti i corsi che abbiamo fatto. Gran gruppo di dottori e top mondiale. Grazie. Grazie a tutti.